E' una questione di dentro o fuori. Il Milan si prepara alla sfida decisiva di Champions League che lo vedrà opposto all'Ajax, non senza qualche timore, vista soprattutto la fragilità della propria difesa. Un argomento sottolineato da Franco Baresi, ex storico rossonero, tuttora all'interno della società, considerato uno dei migliori difensori nella storia del calcio. E' difficile adesso dire il motivo, quando si prende i gol bisogna guardare un po' tutti l'insieme della squadra, che deve essere attenta, compatta, determinata, perché anche contro squadre magari di seconda fascia ti possono castigare. Quindi il calcio italiano è sempre molto difficile, quindi dobbiamo saperlo e nessuno ci regala niente. Beh, fino a questo momento abbiamo fatto bene, adesso abbiamo una partita fondamentale e quindi speriamo di non mancare. Dobbiamo fare una grande guarda, perché l'Ajax è una squadra pericolosa, gioca un buon calcio e come hai detto tu speriamo di fare le prestazioni che abbiamo fatto ultimamente.